Ho capito che è una storia vera, che tu riproponi sotto forma di romanzo? No, è il numero 7 di questa collana curata da Antonio Pagliaro. La storia di Santa Morina, che nel 2002 ha ucciso il marito a colpi di accetta. Mentre dormiva. Mentre dormiva. Ed è una storia molto affascinante perché sia nella realtà, cioè durante il processo che si è svolto nei tre gradi, sia appunto da lettori, si inizia a parteggiare per lei. Perché nonostante l'efferatezza del crimine, da lei commesso, emergono gradualmente tutta una serie di fattori esasperanti che hanno scatenato nella donna questo delitto sostanzialmente. Questo non è un femminicidio, ma leggendo alcuni elementi avrebbe rischiato di esserlo, se non fosse successo quello che è successo. Esattamente. Perché questo non giustifichiamo il crimine naturalmente, tuttavia al tempo stesso va detto che la donna uccide il marito al culmine di una serie di esasperazioni. Non solo, lo uccide nel momento in cui si rende conto, dopo anni e anni di convivenza violentissima, addirittura c'è una cosa che non emerge dalle puntate di Un giorno in pretura, da tutto il materiale che ho consultato, gli innumerevoli articoli della Sicilia, l'Ansa, che mi ha raccontato l'avvocato che le finestre erano schermate, le finestre della casa, perché là dentro avveniva di tutto e fuori non si doveva vedere, anche se i vicini in realtà erano assolutamente a conoscenza di quello che accadeva dentro. Tant'è che è successa una cosa molto curiosa, quando hanno raggiunto la notizia dell'omicidio, ha raggiunto la sorella di Santa Morina, cioè dell'assassina, lei ha detto no, no vi sbagliate, è stato lui a uccidere lei, no no, tosoro, mazzao, no no guardate, non ci credevano. I vicini di casa, poi intervistati, hanno detto che quando hanno visto l'assembramento delle forze dell'ordine davanti all'abitazione, hanno temuto il peggio, hanno detto, poi per fortuna si sono resi conto che le cose erano andate come erano andate, quindi erano tutti a conoscenza. La riflessione ti suscita sul piano anche antropologico, quasi la rassicurazione della notizia che la morta non era lei. Beh, perché tutti sapevano che il violento là dentro era lui. E cosa ti suscita sul piano proprio culturale? Ma in realtà, guarda, noi culturalmente siamo portati a, ora dirò una cosa, cerco di dirla bene perché può suonare in maniera, diciamo, sbagliata, devo stare molto calda. Il pubblico che segue questa intervista sicuramente capirà a quello che vuole dire. Allora, no, nel senso che noi tendiamo a definirci non violenti, a condannare la violenza to cure, no? La violenza, ci sono casi in cui invece la violenza diventa necessaria. La, non lo so, le più grandi rivoluzioni sono avvenute attraverso la violenza. Non è stata definita legittima difesa perché non è avvenuta nel momento in cui lui la stava realmente ammazzando. Quel giorno lei sente che il marito l'avrebbe uccisa. Lei ha paura, non farebbe del male a nessuno, dice. Poi però chiede a Gesù la forza e sente un calore salirle dalla punta dei piedi. Quindi proprio anche l'autosuggestione della fede che l'aiuta in questo perché lei sa di fare la cosa giusta. E commette questo delitto, cruentissimo peraltro, perché prima gli versa due litri di olio bollente addosso. una cosa atroce. Però ecco, non è legittima difesa nell'immediato. Non lo è giuridicamente, ma di fatto nel contesto. è lei. È lei. Grazie a tutti.